Musica Ciao a tutti ragazzi, io vi sono Tessi e benvenuti in questo nuovo episodio di Survival Craft C'è uno pozzo di lava qui dentro, come vedete sono nether, yep nether Oggi andremo alla ricerca di blades, perchè ci servono per le nostre pozioni che inizieremo subito a craftarci Quindi lasciamo a stare i nostri piccoli amici che ci danno una mano o poi fare qualcosa Ma per adesso li lasciamo qui Si ora lagherà un po' perchè sto ancora caricando i chango, mi sembra anche giusta come cosa E anche la lava non scherza ragazzi, quella è la cosa più brutta che si può trovare nel nether Quindi per certi aspetti è ottimo, per altri no Vediamo se riusciamo a fare i pacchetti grafici, no Stazioni video, animation, lava animation Ah ok L'ho già levata Lagga comunque ragazzi, mi dispiace Ok allora proviamo a salire di qua Prendiamo un po' di questa roba perchè comunque mi sa che non ho portato niente, ecco Non ho nemmeno aia Ok, ricopriamo un po' di exp Dobbiamo andare dall'altra parte, dobbiamo andare ragazzi ecco Ecco ho trovato un punto dove posso salire tranquillamente Senza che mi veda Odioso blast Gust non blast Però va bene Sono dettagli, sono dettagli quelli Ok Bene, un buco Non ho ben capito dove siamo, sapete? Ah ok, era Dovevo salire ancora un po' più sopra Ok, ho accennato un blaze E la cosa mi fa molto piacere perchè comunque Ci servono, eccoli Salve amico Oh A knockback quindi non è il massimo sinceramente Poi prendere fuoco non è il massimo anche per lui Vieni, lanciami le palle, vai Aia Sono infame Ok, uno slime gigante Niente blade ragazzi Me servono un pochetto giusto per farmi Il nostro piccolo amico Che adesso non ricordo Come si chiama? Tosto oggi doveva dire Come si chiama in teoria Vediamo Eh, in italiano com'è che si diceva? È una cosa abbastanza carina Ah, eccolo qui Si chiama Alambicco Ok, sì In italiano si dice alambicco ragazzi Che c'è qui? Niente Eh, dovremmo anche trovare un po' di roba Che ci sarà utile in futuro E anche qualcosa per il guider Ottimo Ci sono degli scheletri Provano quei bianchi A me servirebbero quei più forti Quei blu Cioè, quei neri insomma Eh, ma ci accontentiamo comunque Allora Eh, di lì vedo un po' di gente Eh, di qui si potrebbe cadere Quindi Io opterei per una soluzione Un po' più vaga Ok Fare qualcosa un po' più Carino per non cadere Tipo una salita ottimo Ottimo Ci sono un po' di blades Quindi penso che ci sia uno spawner Qui vicino Eh Qui anche Speriamo che ci sia molto vicino Lo spawner Eh, scendiamo un attimo di qui Eccoli qui finalmente Ho trovato anche Una nostra nuova farm Ok Speriamo di non morire Per colpa Di certa gente Che mi fa i malus Del Wither Oh, ecco Mi sa che qui c'è lo spawner Sapete? Oh Andiamo Niente blaze rod Ah no, eccolo qui Oh, una blizz rod Mi sa che mi servono un po' Nel frattempo ragazzi Noi rubiamo Questa Roba E anche Scaviamo Perché Possiamo sia Eh Diciamo Metterla dentro qui Sia metterla Nel nostro mondo Io preferisco Nel nostro mondo Sinceramente Perché mi trovo Molto meglio E poi Comunque Non devo fare Tutto il giro Per andare a coltivare Benissimo Allora Di qui Forse c'erano i blaze Vediamo No Da qui Forse È la strada In cui Siamo scesi Sapete? Vabbè Torniamo su Allora Vediamo un attimo Allora Da questi lati Doveva esserci Qualche altra roba Ecco lì Un blaze Qui che c'è Niente Ok ragazzi Povsa bagno Ok ragazzi Riaccomi Guardate quel blaze Cattivo Cosa vuole fare E allora ci scansiamo E lo mettiamo all'angolo Lo uccidiamo anche Ok Pensavo di cadere qui Meno male Aia Ok Altra blaze Rod E controlliamo Allora Mi servono Circa tre blaze Almeno Che poi sono Blaze Rod O verga di blaze Parliamo in italiano Giusto che stiamo In lingua italiana Su minecraft Che bella roba Che bella roba Non è il massimo Se riusciamo anche A contare qualcosa Di Wither O resto Ci fa molto piacere Come cosa Lì ci sono un po' di roba È strano che spawnino Sì ok Sì C'è una grande percentuale Che spawnino Però Mi sa un po' troppa Quella Che si spawnano Però non è che spawnano Tantissimi qua Quindi è un po' strano Che ce ne siano tanti Eh Ok Questo non trovo Un'ottima idea Però Possiamo fare In questo modo Ah cavolo Ok abbiamo dei mattoni Del nether Ottimo Oh Della roba Molto molto utile Salve amico Allora Ok quello l'ho ucciso Vieni qua Aia Stronzo Fa tanto male Quel coso ragazzi Aia Questo coso Poi è gigante Lol Vieni qua Muori Piccolo amico Ol È bruttissimo Avere una spada Che fa solo fuoco Tipo Non è il massimo Ah Magma cream Ragazzi Ottimo Tanta expunk Oh Troppa gente Forca vacca Aia Aia Troppa gente Troppa expunk Eh La mia spadina Sta per distruggersi No beh Non proprio Però Tanti danni Li ha presi Ex Ok Torniamo indietro ragazzi Devo andare a riprenderci Quella farm nostra Figa Ok Prendiamo la Sunset Che c'è qui Così almeno Dobbiamo cercarla normalmente Benissimo Ciao piccolo amico Ciao Come te la cavi Siamo abbastanza lontani Da casa Quindi tipo Forse Al ritorno Vi Vivi Qui darò Un'altra Piccola parte Ferma Forse Perché È una cosa utile In quanto Sì È abbastanza lontano Casa È bello che voglio fare Tipo la stanza Delle pozioni Voglio farla Al posto dell'albergo E Metterò dei mattoni Del nether Volevi fregarmi Eh Strons Niente Ok c'è un blazerod Ho 4 Ottimo Ottimo Ciao amico Non voglio farti del male Io Bene Lì non è un'ottima idea A scendere Che dite Mi sa proprio di no Perché Tipo boom Cadi nella fossa piena di lava Yeee Mi va la fossa piena di lava Ok Voglio trovare quello spawner ragazzi Perché almeno Tipo Diretto a capire bene Dove poter fare anche lo spawner di Di blades Che è un po' più complicato Però L'ho visto E sicuramente porta molta più Esp Di un normale spawner Di Scheletri o zombie Comunque Perché fate caso che è uno spawner di blades Circa Dal circa il doppio dell'exp Quindi è una cosa utile Un po' di torce che ci segnavano la via Era un'ottima idea Qui che cavolo c'è Ah ok Qui eravamo Probabilmente scesi di qua Si Good E Nostra missione è andata bene Devo dire Niente male Per quello che Mi aspettavo Un po' di blades Verga di blades E il resto Quindi direi che Niente male Quindi ragazzi Torno a casa E ci vediamo fra poco Ok ragazzi Rieccomi Allora Lasciamo un attimo Questa roba Anzi il quarzo Mi serviva Giusto Si Ehm State vi faccio un attimo Un po' di blocchi Ehm Ok 32 Benissimo Allora Mi serviva anche del vetro Che forse dovrei avere un po' Anche sopra Si Avevo cotto un pochetto Quindi vediamo E notte Come il nostro solito Insomma Ehm Ok Due Mi sa che sono pochi Quindi dovremmo recuperare anche del vetro Ma Va comunque bene Allora Facciamo la nanna Prima Good Allora Mi serviranno molti mattoni nel nether Quindi vediamo un attimo Quanti Ce ne abbiamo Di Di soul sand O Di roba del genere Insomma Allora Vediamo Abbiamo due di questi mattoni Che però è un po' inutile Però dovrei avere qui dentro Mi sa Dove è che li ho messi Ok Qui dentro abbiamo uno stack Due stack Benissimo Due stack Non è il massimo Però benissimo Per quello che vogliamo fare adesso Ok Allora Mettiamo a cuocere quindi I nostri cari amici 16 qui dentro 16 32 qui dentro 16 qua 16 qua dentro 13 qua 32 qua Benissimo Allora Andiamo a completare un attimo Il nostro tempietto E Spero che vi piaccia Non ho letto tanto i vostri commenti Perché lo sto registrando Cioè L'ho caricato troppo tardi Il video Sicuramente Perché Non ho avuto tempo Di caricarlo Si ho registrato Però Gli ultimi tempi Non ho tanto tempo Per anche per Registrare Quindi I'm sorry for this E Ok Facciamo in questo modo E quindi Non so bene Quali siano i vostri Commenti Su questo tempietto Spero che vi piaccia E Lo scopriremo Nella prossima puntata Visto che lì Avrò più commenti Abbiamo detto Che l'entrata Era da questo lato Vero? Si Quindi Di questo caso Facciamo in questo modo Benissimo Qua invece Faremo Così Cavolo Ah no Ce la faccio Che bello Quando ne avanza Sotto uno Benissimo E qui sarà un'entrata Solo No Forse è meglio Tipo Fare qualcosa Un po' più bello Qui tipo Vediamo un attimo Quanto io riesco a fare Uno soltanto Tre blocchi Eh vabbè Dovrei avere delle scale Quindi va benissimo Comunque a me piace tanto Questo tempio E E carino Diverso dal solito Sinceramente Allora Un attimo Recuperare un po' di sand E Penso che nel prossimo episodio Andremo a costruire Sia la farm Di questi qui Di Di verruche Come si chiama Verruche del nether Che schifo di nome davvero Potremmo scegliere qualcosa Di un po' più efficace E Subdolo No In verruche del nether Wow Immaginazione on For For the guys Of Of Cosa Non mi ricordo come si chiama La ditta di minecraft Va bene Fa nulla Sono dettagli Sono dettagli Ragazzi Alla fine è inutile For notch Diciamo va Alla fine anche se Notch non ha fatto nulla L'ha creatosi Ma non ci sta aggiungendo più nulla Perché sta Sta Aggiungendo roba solo Jeb Jeb Allora Questi creme di magma Le useremo in futuro Oh Spara Ok E andiamo subito a craftarci la nostra verga di blades Ah è una cagata So Chissà che cosa come si facesse Wow Benissimo Allora Ehm Vediamo Abbiamo 25 Vediamo un attimo dove farlo Di tutto Penso di farlo qui sopra Ehm Tipo vicino al tempietto Quindi dall'altra parte Di lì Vai via creeper Vai via creeper Uoppa Benissimo Allora Ehm Voglio intenzione di fare una cosa del genere Solo che forse non riesco con i blocchi che ho adesso Fare Ehm Diciamo almeno La cosa che voglio fare Allora Vediamo un attimo Facciamo Vai via Poglie Facciamo in questo modo Sono 4 5 6 Ehm No ok Penso di farlo di lato Perché lì c'è una pozza di acqua che dobbiamo chiudere Ehm Ah no vabbè però Potremmo anche farlo così Ok 4 5 6 Facciamo qualcosa di figo Non tanto grande devo dire Però Che dia la sua Immanenza diciamo 7 8 Benissimo 1 2 3 Ok Quindi 1 2 E 3 Forse non ce la farò Ma fa nulla 1 2 Per le porte 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 E poi lì continuiamo Allora Andiamo a vedere se ne ha fatte un po' Ehm Comunque nel caso Vorrei fare una cosa del genere Fare Bene Tipo Così A fine questa sarà soltanto la farm delle verruche quindi non è che sia qualcosa di figo Però voglio Ho un'idea per l'illuminazione ragazzi Tipo voglio rendere tutto il tetro molto figo e Non so se avete capito Niente Ma lo vedrete nella prossima puntata sicuramente Perché Mi piacciono tanto le cose Molto Cattive E brutte Quindi va benissimo Ehm Ma qui se facciamo in questo modo Devo anche aggiustare l'altra parte mi sa Ehm Vediamo Vediamo allora Così Usare però una palla di diamante per scavare la terra non è il massimo Anche se Alla fine scavo solo quella Terra e sabbia Ehm Gaglia e altra roba Però comunque È inutile Va bene Ma fa nulla Noi siamo Molto volenterosi E vogliamo Comprare tanta roba Ok Ehm Allora Vediamo un attimo Ehm Ho due tipi di illuminazione che voglio provare Oh No vabbè La farò vedere nella prossima puntata perché sono troppo spoiler Non mi piace come cosa Allora Vediamo un attimo se ha fatto un po' di Di mattoni Si ne ha fatti Oh Ne ha finiti tutti insomma Quindi Va benissimo Uno stack Ok Ne abbiamo un po' 16 Ehm Ok Mi ne ha fatti 32 Mi sa che era meglio tipo rubarli lì Perché almeno lì C'erano gli infiniti Vabbè ma fa nulla Penso che Boh non lo so Non so se cuocerò le cose Oppure andrò a rubarli Penso andrò a rubarli perché è una cosa più utile Rubarli No è Rubarli è una cosa utile Però Non è una cosa utile Ok Però Diciamo che averli già pronti È una cosa abbastanza più figa Ed ha un certo aspetto Di figaggine a tutto Quindi Quando tutto è pronto Perché Impegnarsi Per fare altro Mi sembra giusto Cioè È una cosa Chiara e tonda Perché sto delirando Non lo so Ehm Sapete che sono fatto così Ogni tanto deliro Ma va bene Sono dettagli Sono dettagli ragazzi Allora Abbiamo detto quindi Questi 8 Quindi così Ehm Ci servirà un pezzo di terra Ok Ehm Ehm Ci mettiamo della soul sand Non so se ce ne abbiamo abbastanza Però comunque si può Sempre trovare nel nether Ehm Ho fatto dei tre Proprio perché Tipo riesco ad arrivare Fino a tre blocchi A piantare Quindi non devo Fare chissà quali Cose pro Per mettere della roba qua Ok 30 Ne ho usati Allora Vediamo di qui 3 Ok Di qui 1 2 Ah ok Aspettate Ehm Ok Ah va bene Non cambiava nulla Però Comunque È giusto Fare tutto bene Quindi ragazzi Ehm Nel prossimo episodio Vedremo come continuare Anzi Ehm Facciamo una prova Ok Bene Ehm Sì Sarà un po' difficile Tipo fare Queste cose Ah Però No No Allora Aspettate Aspettate Ah beh sì Si potrebbero comunque raccogliere Non è un problema Ehm Sì Ok Qui facciamo in questo modo Qui lo possiamo distruggere Perché voglio avere il massimo spazio Ehm Nel massimo comfort Insomma Qui no Qui sì Cioè lì Diciamo comunque a prenderli Tranquilli Quindi Don't worry Vediamo di qui Cosa riusciamo a fare Così 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 Tipo Non so Tipo il glue Un po' più Un po' più figo Non so se avete Ehm Diciamo Capito la mia idea Però Spero che sia carina Anzi no So che è carina E spero che anche a voi piaccia Ehm Però comunque vedremo nel prossimo episodio Come sarà finita tutto E quindi Diciamo Sarà molto più carino E più impegnativo Da fare Come Rispetto all'altra farm Però Ce l'ho Ci riusciremo ragazzi E io vi saluto per questo episodio E ci vediamo nel prossimo episodio Ciao a tutti ragazzi Ahi Lol Ciao ciao ragazzi